Ciao a tutti, sono qui oggi per parlarvi del nuovo Diavel V4 RS, il Diavel più potente di sempre. È un modello prodotto in serie numerata e la numerazione la vediamo sulla targhetta in alluminio, sulla bancata posteriore del Desmo 16 stradale, che assieme a una tecnologia sviluppata direttamente da Ducati nel mondo delle competizioni, alzano l'asticella in termini di performance ed emozioni garantite al pilota dalla Muscle Roster di Borgo Panigale. Il motore Desmo 16 stradale, dotato di distribuzione desmodromica, albero controrotante e ordine degli scoppi Twin Pulse, tecnologia questa che ci sta permettendo di dominare la scena nei campionati di MotoGP e Superbike, uniti alla ciclistica tipica del Diavel, quindi con un baricentro molto basso e un interasse che dà grande stabilità, fanno sì che il nuovo Diavel RS sia la moto che riesce a scattare da 0 a 100 con tempi letteralmente da MotoGP. Grazie ad un pacchetto elettronico molto sofisticato, composto dal nuovo DQS 2.0 che permette cambiate molto veloci e dirette e alla taratura del nuovo Ducati Power Launch, qualsiasi rider può esprimersi nelle partenze da 0 a 100 come un pilota professionista. Come su tutte le Ducati più pregiate, anche sul nuovo Diavel B4 RS è presente la frizione STM Evo Superbike, lega leggera d'alluminio ricavata dal pieno con funzione antisaltellamento che ci permette di utilizzare anche il nuovo olio Ducati Performance Racing Oil sviluppato in collaborazione con Shell Advance e Ducati Corse per aumentare la potenza di picco di questo motore Desmo 16 stradale. Dato sospensione abbiamo lavorato per aumentare il piacere di guida su strada senza perdere il comfort tipico del Diavel nell'uso quotidiano. Le nuove sospensioni Hollins dalla taratura dedicata portano in dote quella scorrevolezza tipica che le contraddistingue e vanno a gestire molto meglio i trasferimenti di carico elevando il livello qualitativo di guida sportiva su strada per il rider del nuovo Diavel B4 RS. Debuttano nuovi pneumatici Diablo Rosso 4 nella misura generosa 240-45 che conferiscono grande impronta a terra e maggior grip sia su asciutto che su bagnato. Ulteriori novità sono i nuovi cerchi forgiati in lega ad alluminio 5 razze AY che conferiscono grande agilità alla moto nei cambi di direzione e una maggior neutralità dal punto di vista della conduzione di curva. Però la moto tende anche a chiudere molto meglio la linea. Fino ad ora abbiamo parlato di accelerazione e qualità dinamiche del veicolo ma il forte del Diavel è anche la frenata. Questo grazie a un impianto frenante da panigale con dischi generosi a 330 mm e pinze stilema che assieme ad una taratura ottimale del sistema ABS Ducati permettono al nuovo Diavel V4 RS di raggiungere decelerazione di picco di 11,5 metri al secondo quadro. Sono valori che normalmente fanno parte del mondo racing GP e Superbike. Sul nuovo Diavel V4 RS debuttano elementi di stile inediti disegnati appositamente per questo modello dal centro stile Ducati come i convogliatori d'aria in carbonio, i fianchetti in carbonio e il bellissimo codone monoposto. Il tutto impreziosito da una livrea dedicata racing che il pilota può trasferire sulla propria tuta proprio come sulla mia grazie al programma dedicato Ducati su misura. Questo è il nuovo Diavel V4 RS, il Diavel più racing di sempre.